C'è ancora qualcuno che ha voglia di fare casino laggiù? Prima di cominciare vorremmo mettere bene in chiaro una cosa Torino. Il primo disco da ArcMC lo dedica al piccolo Angelo di oggi, Yara. Per sempre il nostro cuore, perché morire a quest'età fa schifo. La vita non è così. Giovane Angelo, ti amiamo. Al campo di console presentiamo la parte un po' più dura della Torino che balla. A questo momento, from E.U. Sound, Double Z e Dottor Pot. Alla voce è Darko MC. Le mani si alzano, le mani si alzano, le mani... E quel suono, e quella musica... E quella melodia! E now, take me to the stage I want to be Take me all the way Grazie, Camino, che è in parista! Ogni tu sarai, ogni tu sarai, ogni tu sarai, ogni tu sarò, I will save you too! Non c'è niente da fare, ogni tu sarai, ogni tu sarò, non c'è niente da fare, che è un passo da regale! Non male, io sono! Ci sono mani quanti quanti? Come? Come? Lui, io sono! E il disco mi fanno le mani in Torino Le mani come il Dottor Zotti, anzi Le mani come il Dottor Zotti We are the moment of sound, we are in sound Ladies and gentlemen, mind and heart between the brain and the left Wake up, I'm up in sound, Dottor Zotti We are the moment of sound Hot, Hot, Hot! Mommy and the left We are the moment of sound, we are the moment of sound Dottor Zotti un amici SSSFM solo super marco Sì! Marco Meri 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 E' la legnazza! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Viene sempre dal cuore! Sua madre è vero! Questa donna notte è magnifica! Grazie a tutti! No, amico, la parte che è tutto lo sta l'altro! Ora vieni a che mano venga, ci siamo la prossima notte! Cantami la tua canzone! Mi piace dal cuore! E non faccio male! No, amico! Mi piace dal cuore! E non faccio male la canzone! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.